Vi ricordate quando a inizio anno vi dissi nel video dei buoni propositi che volevo iniziare a investire regolarmente ogni mese una somma fissa? Ecco, non serve che vi spieghi che il 2020 è iniziato in un modo un po' diverso da come me l'ero immaginato quindi ho dovuto ridefinire un po' tutte le mie priorità, tutti i miei piani perché ho dovuto fare molti più video, ho dovuto sospendere dei lavori, iniziarne dei nuovi quindi è andato tutto un po' diversamente e alla fine non ho avuto tempo di pensare a questa cosa del piano d'accumulo però finalmente con solo 4 mesi di ritardo eccomi qua con il nuovo piano d'accumulo e oggi sono qui a parlarvene nel modo più dettagliato possibile quindi come l'ho composto, come mai ho fatto determinate scelte, come ho intenzione di comportarmi insomma oggi ne parliamo veramente nel modo più preciso possibile ma lo facciamo dopo la serie Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Pietro e dopo 4 mesi di ritardo eccoci qui a parlare del piano d'accumulo, il mio piano d'accumulo e infatti ci tengo a specificarlo, quindi fate molta attenzione questo è il mio piano d'accumulo, non è il miglior piano d'accumulo è il mio piano d'accumulo, il piano d'accumulo di Pietro Michelangeli quindi non è detto che questo sia adatto a voi anzi è molto improbabile che sia adatto a voi non ha assolutamente senso prendere quello che sto facendo io e copiarlo esattamente come lo faccio io ogni mese lo dico perché è qualcosa di relativamente facile da copiare quindi sono sicuro che tanti cercheranno di guardare questo video in un'ottica di quasi ispirazione non fatelo, fatelo a scopo didattico così capite da che punti bisogna partire per comporre il vostro piano d'accumulo fatta questa premessa iniziamo dalle basi ma perché uno dovrebbe fare un piano d'accumulo? che senso ha? beh in realtà non ho voglia di dilungarmi troppo su questo argomento perché può sembrare una cosa banale ma richiederebbe un video apposta perché bisognerebbe rispondere alla domanda perché investire? e non è una passeggiata ma per semplificare moltissimo un piano d'accumulo ha lo scopo di farci accumulare e soprattutto molto importante farci crescere del capitale e solitamente chi lo fa in modo graduale quindi ogni mese o magari ogni due mesi ogni tre mesi a seconda delle vostre preferenze lo fa perché o è costretto quindi magari perché non ha tanti capitali in modo immediato e è obbligato a investirli poco alla volta oppure perché preferisce e si trova semplicemente meglio si sente più tranquillo terzo punto fondamentale il piano d'accumulo è qualcosa di relativamente passivo quindi che non dobbiamo stare lì e controllare tutti i giorni anzi proprio non va fatto assolutamente no io quindi per impostare il mio piano d'accumulo sono partito dalla mia condizione attuale dalla mia situazione in cui mi trovo in questo momento della mia vita e i punti fondamentali diciamo che sono due il primo è l'età ho 22 anni e pertanto ho un orizzonte temporale davanti a me molto lungo quindi in altre parole posso lasciarsi che il mio investimento cresca per molto tempo cresca oppure che subisca degli scossoni molto forti anche questo va tenuto in considerazione punto numero due ho già un portafoglio attivo questo è un punto fondamentale perché significa che ho già un altro portafoglio che gestisco in modo regolare e di conseguenza alcune cose potrei decidere ragionevolmente di non metterle nel piano d'accumulo ma di conservarle all'interno del portafoglio attivo perché così posso monitorarle appunto in modo più regolare ovviamente ci sono mille altre cose minori che ho tenuto in considerazione ve lo sto semplificando per farvi capire che comunque dovete partire da la situazione che avete voi il primo passaggio oltre al passaggio zero che diciamo è quello di appunto capire dove ci si trova è quello di capire, individuare la cifra che dobbiamo andare ad investire ogni mese insomma mi sono messo lì, mi sono fatto un po' di calcoli su quanto guadagno, quanto spendo quanto prevedo di guadagnare, quanto prevedo di spendere, le tasse che devo pagare i soldi che devo mettere sull'altro portafoglio insomma ho cercato di essere abbastanza largo e alla fine sono arrivato a una cifra annuale, adesso vi spiego perché, annuale di circa 8.000 euro di conseguenza diviso 12 veniva circa 660 euro e allora per far cifra tonda ho detto vabbè risparmio qualcosina di più e facciamo 700 al mese ho fatto i calcoli su una cifra annuale perché come sapete o se non lo sapete ve lo dico io i guadagni che ho dalla mia attività di youtube, affiliazioni vari, sono decisamente instabili c'è il mese che va veramente da dio e c'è il mese in cui invece è un po' di magra quindi ho cercato di appiattire il tutto e fare un calcolo su base annuale per poi dividerlo io ovviamente nel caso più avanti dovessi guadagnare molto meno o molto di più beh chiaramente andrei a ridefinire questa cifra però è una cifra che tendenzialmente dovete decidere e attenervi a questa cifra non la dovete assolutamente cambiare ogni mese il secondo punto fondamentale era capire come comporre questo piano d'accumulo come ho già spiegato ho tenuto in considerazione il fatto che avessi già un portafoglio attivo quindi alcune cose non le ho inserite per questo motivo anche se in un certo senso avrei voluto tanto per cominciare ho scartato tutti i titoli di stato e a dire il vero anche le obbligazioni societarie perché in questo momento con i rendimenti così bassi e siccome prevedo che saranno dei rendimenti bassi ancora per un po' almeno mia opinione personale ho preferito scartarle in questo momento mi riservo appunto il diritto di gestire nel mio portafoglio attivo ma non nel portafoglio a lungo termine anche perché sono giovane quindi non ho bisogno di un cuscinetto come le obbligazioni che vadano ad assorbire gli urti almeno di nuovo sulla mia situazione personale ho valutato di inserire l'immobiliare tramite l'uso di rate ve ne avevo già parlato in un altro video ve lo lascio qui in alto ma in realtà è qualcosa a cui sto lavorando da più o meno un paio di mesi per il portafoglio personale quindi anche in questo caso è qualcosa che preferisco gestire individualmente anche perché per quanto mi riguarda gli affari migliori sui rate non si fanno con gli etf ma con i singoli rate le materie prime sinceramente ve le sconsiglio all'interno di un piano d'accumulo perché sono estremamente cicliche quindi sono molto più facili in un certo senso da gestire su dei cicli molto lunghi come possono essere dei cicli decennali e non qualcosa su cui accumulare discorso diverso per l'oro l'oro infatti è sì tecnicamente una batteria prima ma è un discorso un po' a parte perché è considerato appunto il bene rifugio per eccellenza infatti ho valutato di inserirlo ma alla fine non l'ho fatto diciamo che non l'ho fatto per un semplice discorso di costo opportunità perché per quanto mi riguarda ci sono opzioni migliori rispetto all'oro però molto probabilmente inizierò ad inserire l'oro tra qualche anno in portafoglio quindi per quanto mi riguarda adesso è troppo presto ma non come materia prima non come oro è troppo presto per l'oro ma è troppo presto per me perché sono troppo giovani in un certo senso ci rimane fondamentalmente solo l'azionario e infatti il mio piano d'accumulo è totalmente azionario come l'ho fatto ovviamente tramite degli etf è la cosa più logica e più sensata da fare per chi non sapesse cosa sono gli etf sono dei fondi molto poco costosi e gestiti in modo passivo questo vi consente di avere delle commissioni estremamente basse e sono perfetti per questo tipo di attività per quanto riguarda invece l'azionario ok ma cosa ci ho messo dentro? ho deciso di trascurare l'Europa eh sì questo stupirà tanti soprattutto perché in un certo senso mi sto esponendo a più rischio cambio ma vedo l'Europa sinceramente come una zona che in futuro potrebbe darci poche opportunità in generale però non voglio approfondire questo discorso adesso questo però è semplicemente per dirvi che un etf del tipo world quindi un etf globale che ha all'interno abbastanza paesi europei non faceva al caso mio ho invece deciso di dare un peso abbastanza rilevante ai paesi emergenti in particolare la Cina che per quanto mi riguarda è già in diciamo sulla strada per superare gli Stati Uniti e con questo non intendo assolutamente che accadrà domani però è un piano d'accumulo di lungo periodo quindi è qualcosa per quanto mi riguarda di cui voglio tenere conto e per il resto beh Stati Uniti ovviamente quindi per concludere ho optato per una combinazione di 70% S&P 500 quindi indice statunitense e 30% mercati emergenti quindi se facciamo i conti viene per fare cifra tonda 500 euro al mese nell'S&P e 200 euro al mese negli emergenti gli etf li ho scelti cercando degli etf che fossero prima di tutto ben capitalizzati un punto fondamentale perché soprattutto sono difficili da negoziare sono più rischiosi anche quindi degli etf decisamente grandi non assolutamente piccoli perché per un piano d'accumulo non posso permettermi questo rischio poi dovevano avere dei costi bassi e con bassi intendo veramente tra i più bassi che potessi trovare terzo punto ad accumulazione infatti il dividendo è qualcosa che in questo momento non mi interessa sarebbe semplicemente una rogna in più da gestire senza contare il fatto che diventa anche inefficiente dal punto di vista fiscale altro punto non voglio assumermi nessun tipo di rischio emittente quindi solamente etf a replica fisica ultimo punto ma non meno importante etf che avessero delle singole quote non troppo costose e questo per un semplice motivo perché una quota troppo costosa diventa difficile da gestire ho dovuto per esempio scartare questo etf perché una quota oggi costa 250 euro quindi capite bene che se devo investirci ad esempio 400 euro beh probabilmente riuscirò semplicemente a comprare una quota a meno che questo etf non scenda a 200 in quel caso ne potrò comprare due ma il senso è le quote mi permettono di dividere meno il capitale in quote quindi la singola quota il singolo etf dovrebbe essere il meno costoso possibile se non riuscite infatti a frammentare in un certo senso la vostra quota andate a disperdere tutto quel vantaggio che è dato dal dollar cost averaging quindi quello di comprare più quote quando l'etf è basso e meno quote quando l'etf è alto in ogni caso gli etf che ho scelto sono questi due il primo è di xtrackers e va appunto a replicare l'S&P 500 il secondo invece è un etf di iShares ed è appunto l'etf sugli emergenti a questo piano d'accumulo però ho aggiunto due piccole e semplicissime variazioni sul tema chiamiamole così numero 1 ho sempre odiato quando nei piani d'accumulo per pochi euro non riuscivi a comprarti un'altra quota non aveva molto senso a parer mio quindi ho fatto sì che se aggiungendo il 10% del prezzo di una singola quota se ne può comprare appunto un'altra allora si spende quei pochi euro in più e se ne compra un'altra visto che a tutti gli effetti a livello monetario non cambia poi tanto ma a livello di investimento cambia veramente tantissimo quindi facendoci conti al massimo si possono eccedere di pochissimo i 700 totali quindi di nuovo non cambia sostanzialmente nulla numero 2 questo invece è già abbastanza diverso rispetto al piano d'accumulo classico ho fatto sì che se il mese precedente gli etf calano sotto una certa soglia in rispettivamente 4 e 5% allora ci investirò il 20% in più questo semplicemente perché in un piano d'accumulo secondo me ha molto più senso comprare in modo più massiccio sui ribassi che non sui rialzi quindi ho deciso di impostarla in questo modo sono due piccolissime variazioni gestibili facilmente con un semplice foglio excel 10 minuti di calcoli al mese quindi non è veramente nulla di troppo complicato e non va a snaturare l'idea di qualcosa di passivo e facile da appunto usare come mezzo di investimento ultimissima nota ma è veramente un dettaglio può capitare che investendo una cifra relativamente piccola ovvero 700 euro alla fine ci sia un avanzo magari di 30-40 euro cosa te ne fai di quei 30-40 euro che non sei riuscito a utilizzare per comprare altre quote perché troppo costose? semplicemente li tengo lì e ogni 6 mesi valuto in quale dei due etf investire maggiormente quell'avanzo che in 6 mesi si è accumulato oh ultimo punto dove sto facendo questo piano d'accumulo? de giro de giro per quanto mi riguarda per cittadini europei che vogliono fare questo tipo di cosa quindi un piano d'accumulo su etf è veramente imbattibile a livello di commissioni sulle borse europee quindi ad esempio borsa italiana oppure non lo so borsa di amsterdam dove ci sono moltissimi etf beh le commissioni sono estremamente vantaggiose e è un punto importante perché ogni mese andiamo ad acquistare qualcosa quindi ogni mese facciamo una due magari anche tre operazioni e le commissioni si fanno sentire potete anche usare il vostro broker la vostra banca non importa ma fatevi i conti in un anno quante commissioni andreste a pagare perché se questa cifra è troppo alta non ha assolutamente senso quindi fatevi i conti prima di tutto inoltre de giro ha anche una lista di etf senza commissioni per cui se acquistate uno di questi etf una volta al mese non pagate nessun tipo di commissioni sono stato fortunato e l'etf sugli emergenti l'ho trovato all'interno di questa lista quindi ho cercato appunto tutti i vari etf sia degli s&p sia degli emergenti che mi potessero andare bene e ho guardato se alcuni di questi erano presenti all'interno della lista non fate ovviamente il contrario non partite dalla lista per vedere se c'è qualcosa che vi piace dovete partire prima di tutto da quello che vi serve se poi sono all'interno fantastico però di nuovo non fate il percorso inverso ragazzi spero abbiate apprezzato questo video ho cercato di essere il più dettagliato possibile poi magari faremo un aggiornamento in modo periodico per vedere come va ma in realtà insomma è un piano d'accumulo quindi ripeto non dovremmo star qua a ossessionarci a monitorarlo quindi valutiamo un po' la cosa più avanti se il video vi è piaciuto fatemelo sapere con un bel mi piace o commentando qua sotto i commenti purtroppo non riesco sempre a rispondere ma fidatevi che li leggo sempre per questo video quindi è davvero tutto io vi saluto e alla prossima ciao ciao ciao